Buon pomeriggio, riprendiamo la riunione e do a tutti il benvenuto alla sessione pomeridiana della Commissione che si concentrerà su un'audizione intitolata al controllo dei progetti e attuazione dell'esecuzione dei fondi dell'Unione Europea nell'area dell'infrastruttura dei trasporti, efficaci e problemi. Si tratta soprattutto di un intervento della BEI sulla questione, benvenuti, poi una ONG, la direzione generale della Commissione che si occupa di questi e il progetto Lione-Turino del TEN-T e anche un'altra ONG che interverrà sull'argomento. Il caso del progetto Lione-Turino. Do il benvenuto al direttore Onidi, Gimminil della società di gestione per l'ONG Ibagnes. Dottor Onidi, le do subito la parola. Abbiamo una cinquantina di minuti direi. Prego.